Wey la la, iniziamo subito alla grande oggi, tre item totalmente gratis, let's go, oh mio dio queste emote, questo deltaplano, li andiamo a provare subito, ma prima? Iscriviti al canale con la capellina attiva, droppa un bel like furbetto se ancora non l'hai fatto e all'interno del negozio getti occhio perché scade ogni 14 giorni, infatti a me è scaduto il codice più fresco del centro Italia, errrr! E quattro score, questi sono solamente tre degli oggetti gratuiti che possiamo ottenere e che vi farò vedere all'interno di questo video, l'unico problemino è che questi tre, solo per questi tre, solo per chi ha il playstation plus li potrà ottenere totalmente gratis, ma buttiamoci in game che vi faccio vedere tutti gli altri. Wow, eccolo qui il nuovo deltaplano, ma cosa diavolo sono quei numeri? Stanno diminuendo, forse indica l'avvicinamento al terreno, non ne ha, perché sono continuamente... Oh, già stanno spammato il coso per... No, già così cattivo, iniziamo? E là? Ragazzi? Ragazzi? Ok? C'è qualcuno sopra? Ufficiale? È proprio sopra sopra sopra, come faccio ad andare sopra? Occhio, occhio, occhio! Ok, abbiamo 30, cioè è gustoso! E la ragazza, ma ha finito di spammare! Andiamolo subito a perquisire sia una sia l'altra, perché quasi quasi... Uh, buona questa armetta, grazie, grazie mille! Andiamo a vedere anche l'amico... Ma lui è da solo? Io ho rubato subito la Switch per capire, insomma, che comanda! Li prendiamo a piccolate! Ok, uno lo vedo, è proprio qua sotto... Oh mio Dio, quanta gente! Oh mio Dio, quanta gente c'è! Guardatelo l'amichetto! Sta facendo finta di niente, ma lo sa, lo sa, lo sa, sicuramente gliel'ha già detto l'amico, che l'abbiamo perquisito. Attenzione, perché iniziamo subito, caldissimi, subito! Ah, pensavo, due chilette, invece è solamente una che non guasta! Mai! E amici miei, finalmente ci siamo! Finalmente sono tornati i regalozzi all'interno del gioco di Fortnite! Non vedevo l'ora, hanno preso, hanno fatto un periodo di pausa! Occhio! Ho sentito qualcuno? Ho sentito qualcosa? Infatti eccolo! E là? E là? Oh, Gertomino! No, no, no! Calmi, calmi tutti! Ragazzi, calmi! Ragazzi sono circondato! Questo sta spammando! Noi andiamo in giro solo con una mitaglietta, un po' troppo misera, un po' troppo umile! Devo trovare delle armi, devo trovare... Occhio! Uno è sopra di noi! No, la pistolina no! Tutto, ma la pistolina no! Va bene i cildini, va bene i cildini! Ok! Questo è un bottazzo! Ha un pump! Se sicuramente ci serve! Occhio! Qualcuno è sopra di noi! Questo non è un bottazzo però! Che diavolo è? È sceso o no! Eccolo! Oh mio Dio! È cattivissimo questo playerino! Ma chi diavolo è? Granatina 1, granatina 2, granatina 3! Scildino, scildino, scildino! Corri, 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 corri! Ok, dobbiamo assolutamente andare! Vediamo cosa diavolo sta combinando questo simpaticone! Eh, questo è cattivo eh! Lo dobbiamo prendere! È abilissimo! Oh mio Dio! Ma questi sono matti! Ma questi sono matti! Mi passano a fianco senza dire nulla! Io questo però arrivederci cucciolo! Io stavo faccio ma ti devo chillare! Ho bisogno di tutto il tuo loot! Se prendiamoci anche questo! Dobbiamo andare a chillare il più forte all'interno di questa lobby che non era affatto male! Non è andato giù! Attenzione dovrebbe essere qua! Da qualche parte! Sicuramente sta sviscitando! Era troppo abile nel building! Questo è un viscito! Ok! L'ho sentito! È sotto di noi! Attenzione! Perché potremmo morire! Oh mio Dio che ansia! Oh mio Dio che ansia! Dove diavolo è andato? È scomparso ufficialmente! Dobbiamo stare attenti! Dobbiamo sentire il suo sound! Oh mi sparano altri! No! Signor Tonio Cartogno! Non è il momento! Ora! Ok! Sta piccolando! Tipo qua sotto! E la? Ti sta facendo gli scildoni? Si sta facendo gli scildoni? Li..? Ok! Worth it! E Eph parlerà leci miei? Ce la possiamo fare! È bravo eh! Va su va su va su! Ehi! No! La pistolina! Maledizione! No! E la? E la? Guglielmo! Ok! Lo preghiamo così! Lo preghiamo così! No! Non lo preghiamo per niente! È andato! E là? E sopra e sopra e sopra Oh mio dio che inseguimento Ho sbagliato 17 mila armi Occhio Credo ha jumpato Ha jumpato ufficiale Oh mio dio uno start così Era da tempo che non lo facevo Dove diavolo l'ha messa la jump però Eccola qui la sua jump Non è affatto male questo fringuellino Che ormai è svolazzato via Non sappiamo dove può essere andato Ma io credo che siamo ufficialmente I campioni in carica di lago l'anguido Anche perché lo possiamo dire Lo possiamo dire Oh no 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 che non lo possiamo dire No che non lo possiamo dire Occhio Io volevo prendere in realtà Questo era Mitacchioso Mitacchioso Ma questo è un bottazzo Ma signor mita Ma io credo proprio che sia un bel bottazzo Per non sapere leggere e scrivere Mi porto dietro questo bello scildone Che in un caso di emergenza ce lo facciamo Occhio Mitacchione Mitacchioso Mitacchio Ma è possibile che scompaiono tutti quanti Comunque questo bel mitacchioso Era un bel bottazzo Al 100% Occhio Aspetta È tornato È lui È il Dynamo di prima È la Dynamo Occhio signori Oh Questo dove va Dove va Dove va Ok lo prendiamo in volo Ok Abbiamo rotto tutto No lo devo andare a prendere Scusate ma lo devo andare a prendere Però pochissimo vi dico Di tutte le ricompense gratis Che possiamo ottenere Ma prima mi devo guillare Ah no 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 Ci servono Ci servono assolutamente mazzo Non possiamo affrontare un fight In questa maniera Ecco l'ecco 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 Lo incontriamo in finale Lo incontriamo in finale al 100% Perché è top of the pops E amici miei occhio A proposito delle altre ricompense gratis Due tra queste le possiamo già vedere All'interno del menu degli incarichi Vediamo se riusciamo a vederle anche così No Dal in game non le possiamo vedere Però se vuoi andare dall'interno del vostro menu Tra gli incarichi Grazie alla collaborazione pazza con Valenziaga Che siamo con l'inventato Fortnite Possiamo ottenere due spray totalmente gratuiti Non è niente male Certo lo spray non è niente Ma che è successo? Cosa diavolo è successo? Mi stavo dicendo Lo spray non è niente di che Però è sempre un bel Sono sempre due belle ricompense gratis Che non guastano mai Noi abbiamo solamente 20 colpi di assalto Stanno sparando qua dietro Sicuramente è il nostro amichetto Occhio Sta sparando con qualcuno là davanti Fatemi vedere Quasi quasi facciamo una bella trappola Con No Questo è uno skin Che sta sparando contro Oh mio dio quanti playerini Oh mio dio quanti playerini Io quasi quasi eviterei di fare questi fight Me ne vado a cercare dei colpi d'assalto Tipo questi qui che sono belli cattivi Io sono sicuro che quella Dynamo di prima La rincontriamo in finale Era troppo forte Almeno che non è morta In Oh Ho sentito qualcosa Occhio Oh no con quest'aria Oh mio dio quanti playerini Via 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 Sono circa 6 playerini Bella per voi Oh Cosa sono queste due macchine killer Arrivederci Arrivederci ok Una l'abbiamo noccata Oh mio dio No 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 Cosa diavolo Signori miei Non ci credo Non ci posso credere Dobbiamo andare assolutamente in safe Cioè mi hanno fatto ribalsare con una macchina Mi hanno fatto un attacco da kamikaze Non mi sono minimamente accorto che stavano arrivando Meno male l'audio Occhio 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 E qui c'è sicuramente il suo amico Erano molto cattivi Uno Oh no no Guardia No no Guardia Guardia Noi ti vogliamo bene eh Non cerco guai No 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 Non cerco Non cerco assolutamente guai C'è un predatore che sta uscendo fuori da qualche parte Signora guardia Sia tranquilla Dove diavolo è andato il tizio con la macchina Ok Quello che avevamo noccato E' ufficialmente morto Ma l'altro tizio con la macchina Dove diavolo è andato Ma erano due pazzi Uh Mega chest Leggendaria E P90 Va bene Va bene Ci accontentiamo Non è mai malvagio Un bel Oh 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 Hanno sparato con qualcosa di grosso Oh Questo è cattivo Eccola E la Dynamo L'abbiamo incontrato di nuovo regà Oh Aspettate Cos'è questo sound Oh mio dio che paura Oh mio dio che paura Oh Ma chi è Ma chi è che mi sta sparando Ma mi sparano anche da dietro Non capisco che cosa era quel sound La Dynamo è scappata La Dynamo è scappata Oh mio dio che Oh Ma chi è che mi spara Mi spara qualcuno da Ma da dove Ma chi è questo Ma chi è che Ma chi diavolo era questo vermice Oh Quella oggi me lo devo prendere A costo di morire Ma me lo devo prendere Ti prego non morire Non morire Non morire Non morire Non morire Non morire Ok L'abbiamo preso Abbiamo ancora un bel po' di vita Si è scelta Più che azzeccata Oh mio dio La sfida con la Dynamo Signori miei La dobbiamo assolutamente vincere E a proposito Delle altre ricompense gratis Io quasi quasi no Volevo utilizzare il booster Di quella Di questa torre Ma meglio di no Canferino tattico E vi sto dicendo A proposito delle altre ricompense gratis Che possiamo ottenere Occhio perché Il 24 Di questa settimana E di questo mese Ovviamente Arriveranno i regali E le ricompense Di Fortnite Per il quarto compleanno ufficiale Questo che cosa vuol dire Che ci saranno ben tre ricompense Totalmente gratis Per tutti quanti Che sono queste tre Che vi vado a mostrare Il piccolo Il backpack E anche un emoji Per celebrare L'anniversario Il quarto anniversario Del compleanno E più ci saranno dei regali Ritornerà la funzione Dei regali Direttamente in game Sarà qualcosa di davvero Molto 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 carino Da non perdere E più ci saranno anche Delle Delle altre Ricompense Occhio signori miei Aspettato un attimo Per cui Qui entriamo nel video Dell'azione Occhio Ho visto Un bel lanciarazzi Caldissimo Io quasi quasi Oh 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 Mi ascolo Mi ascolo Metti giù Mi asco Oh mio dio Non ho capito A dove gli sparo E non shield Non shield Non shield Non abbiamo Noi dobbiamo stare Attentissimi Alla dynamo Occhio Oh mio dio A 7000 armi Eccola la dynamo Eccola la dynamo A lei rivelatore Io gli lancio Guarda A tutte le armi del mondo Mentre Faita Lo devo killare E' bianca di nuovo E' bianca di nuovo E' sempre bianca Questa dannatissima Dynamo Ma non riusciamo mai A killarla Occhio E questa granata E' buona La vedo La vedo La vedo No Blef E' la sopra E' la sopra E' la sopra Attenzione Lui ha il O lei ha Il superpotere Di Venom O di Carnage Oh mio dio 4 playerini Vivi Il nostro obiettivo Fin dall'inizio E' proprio davanti A noi Non ci posso credere Che è un game Così fuori controllo E' uscito fuori Qualcosa di epico Attenzione Lei si è boxata Alla davanti Non possiamo andarla A prendere assolutamente Io mi farei Un bel po' di mazzo Abbiamo uno slot libero Vediamo se riusciamo A trovare qualcosa E' sceso E' sceso E' sceso Ufficiale Qua sotto E' qua sotto Si sta prendendo Oh no Mamma mia A tutto A tutto e di più Siamo tre playerini vivi Uno è morto Non ho idea come Questa non è male Questa non è male Sicuramente si ha shieldata Sicuramente si è fatta tutto Oh Attenzione 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 No 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 Best edit E u Occhio Ci siamo Ci siamo amici miei Ci siamo E' brava E' brava E' brava E' brava Lo sapevamo C'è un verme Che ci spara Non so da dove Occhio Lei è di qua Oh no 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 Non puoi intrometterci Oh E' volata via E' volata via Il verme ci ha sparato da dietro Si è intromesso nel nostro megafight Occhio perché qui Secondo me Ci buttano tutto per terra Dobbiamo stare molto molto attenti Ok Scendiamo in silenzio in solitaria Chest buona Sì Free chest L'abbiamo Ti prego Va bene Va bene Granatine non male Attenzione signori Oh no 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 Ho sentito qualcosa che non andava Questo ha fatto Qualche roba Tipo il coso di Venom E' sopra di noi Sceldini tattici E' Lui sa che noi siamo qui Lui sa che noi siamo Oh Ma che diavolo Oh mio dio Pazzo Maledetto Oh mio dio Che diavolo mi ha fatto Oh mio dio Quel coso di Venom Sicuramente un ruolo lo rifà Cioè dobbiamo andare da qui Cioè dobbiamo Oh mio dio Che paura Oh mio dio Che paura amici miei Occhio Aggiampato Medikit per noi furbetto Dobbiamo andare 5 secondi Ci dobbiamo muovere Oh mio dio Che finale Incredibile Più che altro Vorrei sapere anche Chi è il verme solitario Che ci sta sparando Cioè che ci ha sparato prima Attenzione Uno E' sulla nostra destra Uno è morto Uno è morto Non capisco dove Dobbiamo salire Ok 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 E' sopra sopra in alto E' sopra sopra in alto Sicuramente Lui vuole Vuole venire qua Ok Al deltaplano Classic Dov'è? Sopra di noi No? Mio dio Oh 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 Questo qui usa il braccio Usa sicuramente il braccio di Venom Non capisco dov'è Comunque la Dynamo Signori miei Ve l'avevo detto Che l'avremmo Oh 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 Fermo 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 La butto giù La butto giù La butto giù La butto giù Alla jump In realtà non gli serve A tanto Perché comunque potrebbe Volarsene via Quando vuole Con il superpotere di Venom Oh Sa che sono qui Lui mi vuole prendere Con il suo braccio Lui mi vuole prendere Dobbiamo inventarci qualcosa Dobbiamo inventarci qualcosa Non abbiamo tanti mazzo Scendiamo un pochettino Anzi facciamo proprio Una rubetta Così Fresca Ok Lui pensa che siamo di là Oh mio No 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 vincere così no però Eh Siamo in completa balia Oh 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 No no ti prego Ti prego ti prego Ti prego Ti prego No 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 Oh mio dio 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 No Oh 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 Per pochissimo A uno di vita A uno di vita Amici miei Mi raccomando All'interno dei negati oggetti Il codice più fresco Del centro Italia R4 Iscrivetevi al canale Attivate le cappellate notifiche Troppate un bel like Furbetto Se ancora non lo avete fatto Ora vi lascio Due video bomba Davanti il vostro schermo Quindi mi raccomando Andateli a vedere Noi ci vediamo prestissimo Con tante altre news E L'estra